Gli esponenti del Movimento 5 Stelle di Caltagirone, alla luce degli ultimi avvicendamenti politici, spaziati dalla sfiducia alla giunta a Bonanno e all'insediamento del commissario Mario alla Rocca, hanno avanzato a quest'ultimo una richiesta d'incontro. Il tutto al fine di chiarire sia gli aspetti tecnico-burocratici legati ai conti in rosso del Comune, sia per i pagamenti degli stipendi ai dipendenti comunali e ai lavoratori della Dasti. Il parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, Francesco Cappello, ha però puntato i riflettori sull'inaspettata apertura anzitempo della campagna elettorale. Ufficialmente, seppure non si possa dire, è cominciata la campagna elettorale a Caltagirone. Il centro-sinistra pensa di riprendersi di questa città, ma non ha fatto i conti né con il Movimento 5 Stelle e soprattutto con i cittadini che l'hanno bocciato sonoramente due anni e mezzo fa. Il Movimento 5 Stelle ovviamente monitorerà questa situazione attraverso il proprio deputato regionale e il proprio deputato nazionale, affinché la città si svegli dal torpore nel quale era caduta e dalla rassegnazione si passi al protagonismo e nuovamente all'iniziativa. I temi sono tanti, quelli che abbiamo messo in campo anche durante la giunta a Bonanno, che vanno dalla Rems, al Bosco di Santo Pietro, alla Biennale della Ceramica, al liceo musicale che grazie al Movimento 5 Stelle non ha chiuso i battenti. Il Movimento 5 Stelle quindi c'è, avrà la sua lista, avrà il suo candidato a sindaco e fin da subito comincerà tutta una serie di interlocuzioni anche nei confronti della società calta gironese che ovviamente è il punto di riferimento del Movimento. Grazie. 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 Grazie.